Un megapiano da oltre 37 milioni per rigenerare immobili degradati e aree popolari. Lo mettono in campo comune di Pordenone e Ater. I due enti hanno vinto un bando ministeriale da 25 milioni e 800 mila euro, che integrano con risorse proprie. Previsto il recupero di nove stabili abbandonati da decenni e la loro trasformazione in 84 alloggi sociali. E poi la riqualificazione delle aree popolari di Largo Cervignano e Via Pontinia e del centro anziani di Torre. Abbiamo intercettato quasi 26 milioni di euro guardando alle aree che dal punto di vista urbanistico, paesaggistico ma anche sociale erano più fragili. Quindi per esempio i poli delle case popolari della nostra città, Largo Cervignano e Via Pontinia e dall'altro lato edifici che i pordenonesi secondo me neanche si potevano immaginare che potessero essere riqualificati. Pensate all'ex birreria. Di fatto credo che questa amministrazione con tutti i finanziamenti che ha portato a casa dall'Europa, dal Ministero della Regione, stia attuando e attuerà la più grande riqualificazione ambientale, naturalistica, paesaggistica, urbanistica che la città abbia mai conosciuto nella sua storia. Le riqualificazioni sono connesse al resto del tessuto cittadino. Abbiamo predisposto questo grande progetto che poi è stato spezzato in due proprio per riuscire a intercettare magari tutto il finanziamento, cosa che è accaduta. Tutta una serie di riqualificazioni di edifici che si trovano in tutti i quartieri della città ma che sono collegati da un filologico che è quello non soltanto appunto della rigenerazione urbana ma anche dal concetto di andare a creare residenze sociali all'interno di contesti già urbanizzati, quindi dove ci sono già tutti i servizi dove è semplice spostarsi, dove ci sono per esempio le ciclabili dei parchi, dove abbiamo tre interventi che si sviluppano, l'ex CRAL, l'ex birificio e l'ex battiferro. Quindi un sistema connesso e interconnesso con la città.